Oggi ascoltiamo La principessa e i sette cavalieri, scritta dallo scrittore russo Aleksandra Sergeyevich Puskin nell'Ottocento e precisamente è stata scritta nel 1833. È molto simile a Biancaneve, lo scoprirete mano a mano che l'ascolterete. Biancaneve, la prima versione di Biancaneve, è stata scritta da Perrault alla fine del Seicento. Successivamente i fratelli Grimm nel 1814 ne hanno fatta una nuova versione. Ora ascoltiamo insieme questa fiaba e così potrete scoprire quante similitudini ci sono con Biancaneve, che abbia inizio il racconto della principessa e i sette cavalieri. Un tempo, molti e molti anni fa, in un angolo solitario della steppa rossa vivevano lo zar e la sua giovane sposa. Abitavano in un castello rosso, con tante torri, circondato da un fiume che scorreva mormorando tra i prati coperti di fiori. D'inverno il fiume, gelato, scintillava al sole e gli alberi si drizzavano verso il cielo, irrigiditi dal gelo. Lo zar e la zarina erano molto felici perché si volevano bene. Ma un brutto giorno un messaggero venne ad annunciare allo zar che era scoppiata la guerra. Ed egli dovette balzare a cavallo e partire, a gran galoppo, verso la lontana capitale. Così la giovane sposa rimase sola nel grande castello. Trascorsero giorni e giorni e mesi e le stagioni mutarono lentamente. L'erba si colorì di fiori primaverili, i grandi girasoli volsero il capo verso il sole d'estate, il vento d'autunno fece cadere le foglie e ne coprì tutta la terra. E infine, sugli alberi, gli aghi di ghiaccio rifulsero al pallido sole d'inverno. Fu proprio in una limpida notte d'inverno, in cui tante stelle scintillavano in cielo e tutta la natura taceva come si attendesse qualcosa, che il silenzio del castello fu rotto da un vagito di bambino. Alla zarina era nata una bimba bellissima, dagli occhi turchini come il cielo di quella notte e dalla pelle candida come cristalli di neve che si posavano sul davanzale della finestra. La zarina si chinò teneramente sulla sua culla e cantò una dolce ninna nanna. Ma la gioia era stata troppo grande per il suo cuore di mamma e, quando i primi raggi del sole del mattino illuminarono la sua stanza, ella si addormentò per sempre. Le campane del castello sonarono a morte e un messo venne inviato subito nelle lontane terre dove lo zar stava combattendo contro i nemici, per avvisarlo della shagura che l'aveva così duramente colpito. Lo zar corse e corse nella notte sul suo nero cavallo, corse senza mai concedersi riposo, più veloce del vento e del fulmine. Ma quando arrivò la giovane zarina riposava già sotto la neve e la bimba piangeva agitando le manine nella sua culla di trine. Così lo zar e la principessina restarono soli nel grande castello in mezzo alla steppa. Trascorsero gli anni e la bimba cresceva buona e gioiosa e riempiva il castello dei suoi canti. La sera attorno al fuoco scoppiettante nel camino lo zar e la principessina parlavano a lungo. Lo zar le raccontava storie fantastiche di maghi, guerrieri ed eroi e la bimba stava ad ascoltare assorta, sgranando gli occhi e tenendosi il volto tra le mani. Passarono ancora alcuni anni. La bimba crebbe e divenne una fanciulla bella come una rosellina appena sbocciata e tutti i principi dei dintorni vennero a chiedere la sua mano. Ella li accoglieva con gentilezza ma rifiutava di sposarli. Solo il principe Eliseo, il più prode e generoso di tutti, ottenne il suo amore. Intanto lo zar si sentiva sempre più solo e più triste e un giorno decise di scegliersi una sposa. La nuova zarina era una donna molto bella ma fredda e altera. Ella non amava la giovane principessa e cercava ogni mezzo per farla soffrire. A volte la notte quando già tutti dormivano si udiva schiudersi piano piano una porta e si vedeva un'ombra furtiva uscire dalla stanza. Era la zarina. Tutta volta nella sua veste da camera ella camminava con passi felpati fino a una zetta isolata in cima alla torre più alta e qui giunta accostava silenziosamente l'uscio dietro di sé e ne tirava il catenaccio. Che faceva mai la malvagia zarina a quell'ora di notte in quella parte del castello? Seguitemi. In punta di piedi guardiamo dallo spiraglio della porta. Ecco la zarina tira una tenda di velluto nero e mette allo scoperto uno specchio grande quanto lei. Poi fa una solenne riverenza e comincia a cantare questa anemia. Dimmi specchio fatato al mondo c'è qualcuno che sia bello al par di me? Guardate appena la zarina ha terminato la sua anemia lo specchio si mette a scintillare come se fosse colpito dai raggi del sole e una voce simile al vento nella foresta risponde cantando. Bella sei tu zarina, bella come una rosa e del rame intero tu sei la più graziosa. Allora l'ambiziosa zarina ha un sorriso soddisfatto, fa un'altra riverenza profonda fino ai piedi, ricopre lo specchio con la tenda e riapre la porta della stanza. Silenzio scappiamo. A volta nel rosso mantello la zarina torna nella sua camera. La tenue luce della candela che la regge in mano scompare dietro la porta e tutto ritorna nel buio. Tutto era pronto per la festa di nozze tra la principessa ed Eliseo. Lo zar aveva concesso in dote alla figlia 50 città e 160 castelli. Nelle cucine del maniero i cuochi erano tutti affacendati a scovare nuovi manicaretti. Nella grande sala i sarti davano gli ultimi ritocchi all'abito da sposa. I messi correvano a briglia sciolta verso i castelli dei vintorni per recare gli inviti ai principi. Tutti aspettavano il gran giorno. Ma una triste mattina in cui il cielo era coperto di nubi scure e minacciose e nessun uccello cantava sugli alberi, la zarina salì ancora nella stanza in cima alla torre. Scopersse lo specchio e ripeté la domanda dimmi specchio fatato al mondo c'è qualcuna che sia bella al par di me? Lo specchio si appannò. Un lampo lo attraversò illuminandolo per un attimo di una livida luce. Poi in mezzo a uno scroscio di tuoni che squarciavano l'aria esso cantò così. Bella sei tu zarina, bella come una rosa, ma la principessina è ormai la più graziosa. A queste parole la zarina divenne verde di rabbia. I suoi occhi mandarono scintille e un urlo così stridulo le uscì dalla bocca che la sua cameriera, Dorina, che attendeva nella camera accanto, si precipitò da lei tutta spaventata. Vi assicuro che non era affatto bella in quel momento la zarina. Dorina! Ella gridò. Porta immediatamente la principessa nel più folto del bosco. Legala a un albero e abbandonala. Così questa notte i lupi verranno e la sbraneranno. La povera ancella si buttò in ginocchio e pianse e supplicò finché il pavimento fu inondato di lacrime, ma la zarina fu irremovibile. Dorina dovette recarsi dalla principessa che stava provando il suo meraviglioso abito da sposa. Principessa, le disse trattenendo a stento le lacrime, vuoi venire con me nel bosco a cogliere un mazzolino di fiori per adornare domani i tuoi capelli biondi. La fanciulla consentì con entusiasmo, discese di corsa alle scale del castello e si inoltrò nel prato cantando gaiamente. Percorse danzando un lungo tratto di strada senza accorgersi del tempo che passava. Ma a un tratto s'avvide che il sole era scomparso all'orizzonte e che lunghe ombre scure s'annidavano ai piedi degli alberi e più nessun uccello cantava tra i cespugli. Allora si volse per interrogare la fedele ancella e vide che lacrime silenziose le rigavano il volto. Stretta da un'angoscia improvvisa, la principessa si gettò tra le braccia della donna, supplicando dimmi, Dorina, ti prego, che vuoi fare di me? Perché piangi così? Che hai? La malvagia zarina mi ha dato l'ordine di legarti a un albero e di farti sbranare dai lupi, principessa. S'inghiozzò la donna, ma il mio cuore si spezza questo pensiero. Non farlo, Dorina, non farlo abbi, pietà di me. Come posso disubidire a la zarina, principessa? Senza dubbio mi ucciderebbe. Lasciami andare, libera per il bosco, ti prometto che non tornerò mai più al castello, nessuno mi vedrà più. Dorina, potresti raccontare che un lupo mi ha sbranata sulla via del ritorno? Sì, farò così, principessa, e tu vai e che il cielo ti assista. Grazie, Dorina, addio. E la fanciulla si inoltrò sola per il sentiero del bosco. Già da tempo le ombre della sera erano scese sul castello. Che cosa è successo alla principessa? Si sussurravano gli invitati. Lo zar e il principe si guardavano smariti. La zarina volgeva lo sguardo inquieto verso il ponte elevatoio. A un tratto eccheggiò un urlo e una donna avanzò correndo dal bosco. Era Dorina. È scomparsa, è scomparsa! Ella gridò. La mia povera principessa è scomparsa nella foresta. A quest'ora ormai i lupi l'avranno divorata! Un mormorio d'orrore si levò tra gli invitati. Poi mille e mille fiaccole si sparsero tra gli alberi alla ricerca della principessa. Una scura figura balzò a cavallo e scomparve nell'oscurità della notte. Era il principe Lisseo che andava a cercare la sua dolce fidanzata. La principessa errò senza meta finché tutto il bosco fu immerso nel buio. Solo un piccolo raggio di luna continuò a illuminarle il sentiero ed ella corse e corse, mentre gli alberi sembravano stringersi attorno a lei in un groviglio di braccia tese e minacciose. Una paura terribile le mozzò il respiro. Dove mai avrebbe trovato rifugio per la notte? Chi l'avrebbe difesa dagli assalti delle belve? Ma ecco, laggiù, in fondo, in fondo, un lumino brilla nell'oscurità della notte. Che cosa sarà mai? Forse la fiaccola di qualche buona eremita che vive assorto in preghiera. La principessina riprese animo e si incamminò verso quella tenue luce. Ogni tanto doveva fermarsi un poco, vinta dalla stanchezza. Via via che si avvicinava al lume, sempre più nitida, tra il fitto fogliame si delineava la forma di una piccola casa. La principessina si fece coraggio, allungò il passo e poco dopo si trovò davanti a una casetta di legno in mezzo agli alberi, con una lanterna accesa sulla soglia. La fanciulla bussò leggermente, ma nessuno venne ad aprire. Allora si fece coraggio, spinse l'uscio ed entrò. Nessuno le si fece incontro. La casa era immersa nel silenzio. Un raggio di luna illuminava una grande stufa di cotto decorata con complicati fregi e una lunga tavola di quercia apparecchiata per sette persone. Che cosa devo fare? Pensò la fanciulla. Se ritorno nel bosco, i lupi mi divoreranno in un attimo. Mi conviene fermarmi qui. Si sedette su una panca e si guardò attorno. I padroni della casetta hanno apparecchiato la tavola. Certamente hanno intenzione di ritornare per la cena. Ma che disordine. Forse invece di star qui a far niente potrei cercare di rendermi utile in qualche modo. Così, pensando, la principessa si alzò, riassettò la stanza, attizzò le braci, soppite nel caminetto, accese i lumini sotto le immagini sacre. Poi salì una scaletta di legno e si trovò in una piccola stanza sotto il tetto con un giaciglio di paglia per terra. Si sdraiò sulla paglia ed era così stanca che si addormentò immediatamente. Era trascorso poco tempo, quando uno scalpiccio e un suono confuso di voci la fece balzare in piedi spaventata. Chi mai si stava avvicinando alla casa doveva fuggire e in tutta fretta anche si slanciò verso la porta. La perse sette giovani gagliardi e vigorosi le stavano davanti ai piedi della scala e la guardavano con gli occhi spalancati per la meraviglia. Dovevano essere i padroni della casetta? E adesso che avrebbe detto vedendola lì? La principessa fece una riverenza e disse buonasera signori, mi sono persa nel bosco e vedendo da lontano la luce della vostra casetta vi sono entrata in cerca di rifugio, ma ora vi tolgo il disturbo, scusatemi, me ne torno subito nella foresta. E la fanciulla fece per scivolare via, ma un mormorio di protesta la fermò sulla soglia. Non andartene fanciulla, resta con noi, le disse il più alto dei sette. Sarai la nostra amata sorellina, ci terrai in ordine la casa mentre saremo a caccia e noi ti difenderemo da ogni pericolo. Grazie signori, rispose la fanciulla con gioia, sono felice di diventare la vostra sorellina e di accudire la vostra casa e vi ringrazio di cuore. E così da quel giorno tutte le mattine la principessina salutava dalla soglia i sette cavalieri che partivano per la caccia e poi si occupava aggagliamente delle faccende domestiche. Scopava, spolverava, lavava, accendeva il fuoco. Si recava quindi nel bosco a cogliere fragole e lamponi e roselline selvatiche per adornare la tavola. Gli uccellini e gli scoiattoli le tenevano compagnia e venivano a prendere il cibo dalle sue mani. La fanciulla amava la vita del bosco ma a volte il suo pensiero correva al castello, lontano, al padre, al fidanzato che l'attendevano e il suo viso diventava triste, malinconico. Nel castello lontano intanto la zarina viveva sicura della vittoria e orgogliosa della sua bellezza ma un giorno desiderosa di sentirlo dare il suo aspetto, ella decise di interrogare ancora una volta lo specchio magico. Si allontanò in tutta fretta in punta di piedi camminando leggera sui morbidi tappeti e salì rapida i mille gradini che conducevano alla stanza della torre. Lo specchio era sempre là, coperto dal drappo nero. Con un certo timore la regina si avvicinò e lo scoperse strappando la tela con un colpo deciso. La stanza apparve percorsa da un freddo alito di vento. La regina cominciò ad abrividire e trovò appena il coraggio di valbettare la solita formula. Dimmi specchio fatato al mondo c'è qualcuno che sia bello al par di me? Lo specchio magico ebbe un rapido balennio come una risata trattenuta a stento. Poi rispose con voce chiara e distinta. Bella tu sei, zarina, bella come una rosa, ma nel folto del bosco i sette cavalieri con le spade difendono sempre gagliardi e fieri la dolce principessa che è ancora la più graziosa. Per la gran rabbia la zarina si torse le mani gemendo e lamentandosi. Imprecazioni di rabbia le salivano alle labbra. Ormai non aveva più l'aspetto di una regina e il suo volto sembrava quello di una malefica strega. Quella disgraziata la sa più lunga di me. Sospirava. Certo qualcuno l'ha iniziata l'arte della magia oppure una strega più potente di me l'ha aiutata a sventare le mie insidie ma questa volta non riuscirà più a evitare la morte. Poi corse in camera sua a meditare la vendetta e poche ore dopo una donnetta decrepita con il viso nascosto da un'enorme cuffia si presentava al cancello della casetta dei sette cavalieri. Non appena la scorse il cane di guardia le si avventò contro abbagliando furiosamente. Soccolca, soccolca vieni subito qua lo richiamò la principessa che stava cucendo vicino alla finestra ma il cane continuò ad abbagliare ringhiando e digrignando i denti contro la vecchietta impaurita. Sembrava che presentisse un pericolo e che volesse difendere la principessa. Soccolca ma che cosa ti succede? Vieni qua dunque gridò ancora una volta la fanciulla uscendo sulla soglia. Il cane le corse incontro abbagliando come se volesse avvisarla di un pericolo. Solo allora la principessa si accorse della vecchietta. Che volete nonnina? Le chiese gentilmente. Certamente venite da lontano. Avete bisogno di qualcosa? Di nulla graziosa fanciulla? Rispose la donnina. Volevo solo regalarti questa bella mela succosa. Ecco prendila. E la vecchietta le gettò la mela. Il cane fece subito un balzo in alto per afferrarla ma non vi riuscì. Così la fanciulla la ricevette tra le mani. Grazie mille nonnina volete entrare a riposarvi? Nonnina ascoltate nonnina. Ma la vecchietta aveva già preso la strada del ritorno. La fanciulla rientrò in casa e riprese da cucire. Com'era bella, lucida, trasparente quella mela. E che buon profumo aveva. Era stata proprio gentile la vecchietta. Ora l'avrebbe mangiata a piccoli morsi. Maime, al primo morso la principessa divenne bianca come labrina e cadde senza vita sul pavimento. Quando a sera tornarono i sette cavalieri Soccolka guaiolava tristemente sulla soglia di casa. Che hai Soccolka da guaiolare così pietosamente? Che sia successo qualcosa alla nostra sorellina? I cavalieri si precipitarono dentro la casetta di legno e con orrore videro la fanciulla senza vita sul pavimento. Sorellina, sorellina, rispondi. Cosa ti è successo? Ma alla principessa non rispondeva. Allora uno provò a scuoterla per un braccio. Un altro le tastò il polso. Un altro le diede dei buffetti sulle guance. Maime, tutti gli sforzi per rianimarla riuscirono vanni. Soccolka allora si accostò ai cavalieri e poi si gettò abbaiando sulla mela che era rotolata sul pavimento. La divorò rabbiosamente e giacque morto all'istante. Ecco la nostra sorellina è morta perché ha mangiato quella mela avvelenata, gridò allora uno dei cavalieri. Fratelli, abbiamo perso per sempre la nostra cara sorellina, gemette un altro. I sette cavalieri si inginocchiarono attorno alla fanciulla e la svegliarono tutta la notte senza lasciarla un istante. Appena giunse il mattino costruirono per lei una bella bara di cristallo terzo come l'acqua. Ve la deposero delicatamente e la portarono a spalla fino a una caverna lontana. Nell'interno fresco e oscuro appesero la bara a quattro catene che pendevano dalla parete, poi chiusero l'entrata con un grosso sasso perché nessuno venisse a disturbare il sonno eterno della fanciulla e tornarono a casa in silenzio a testa china. Il principe Eliseo era giunto lontano dal castello in luoghi a lui sconosciuti. Si era perso in un bosco fitto e intricato che non gli lasciava vedere neppure un pezzettino di cielo. Ma infine ecco dal folto del bosco uscì in una radura luminosa e volgendo in alto lo sguardo rivide il sole in tutto il suo splendore. «Ascoltami, oh sole!» gridò levando in alto le braccia. «Tu che cammini splendente nel cielo e scogi tutto il mondo sotto di te! Tu che rischiari anche gli angoli più nascosti e remoti della terra! Dimmi, non hai visto per caso la figlia dello zar, una fanciulla bellissima, dal volto luminoso come uno dei tuoi raggi?» «No, mio giovane principe, non l'ho vista!» rispose l'ardente sole. «Attendi però l'oscurità e chiedilo a mia sorella Luna. Può darsi che ella l'abbia vista errare nella notte! O che almeno ne abbia scorto le tracce!» Il principe attese. Tutto il giorno attese nella radura, scese la sera e la Luna, scintillante, si innalzò nel cielo. «Luna, amica Luna, ascoltami!» implorò Eliseo tendendo le braccia verso di lei. «Tu che inargenti le sabbie del deserto e fai brillare l'acqua del mare? Non hai visto per caso, piangente e sperduta in qualche luogo lontano, una fanciulla dagli occhi dolce come il tuo chiarore?» «No, mio pro delisseo, non ho visto la fanciulla. Eppure io veglio sul mondo tutte le notti. Ma non perderti d'animo, chiedilo a mio fratello vento. Forse potrà aiutarti!» Il principe corse al galoppo sul suo cavallo. Arrivò sulla cima battuta dai venti. Gli alberi si scottevano da ogni parte, come in una danza selvaggia. Il vento passava fischiando e ruggendo nelle grotte, tra i rami, tra le felci e i picchi rocciosi. E tutto sradicava, sconvolgeva, distruggeva. «Oh, vento, vento, ascoltami dunque!» gridò il principe elisseo, cercando di superare con la voce il clamore della tempesta. «Tu che addensi le nudi! Tu che fai tremare il mare e corri ovunque, libero, indomito! Non mi sapresti dire se hai visto in qualche remota contrada alla giovane figlia dello zar, la mia fidanzata?» Il vento si avvolse attorno al principe in un vortice ruggente. «La figlia dello zar, sì, l'ho vista, elisseo, laggiù in fondo, al di là di quella montagna vi è una grotta fredda e oscura, e dentro quella grotta c'è una bara di cristallo, e dentro quella grotta ondeggia tintinnando ogni mio soffio, e dentro quella bara vi è la tua fidanzata, il principe elisseo. Il principe elisseo divenne più pallido della cima del monte incappucciata di neve. Diede un colpo di sprone al cavallo e corse via in fretta, sempre più in fretta, verso quella grotta che imprigionava per sempre la sua principessina. L'alta montagna fu superata in un attimo. Una radura deserta si stendeva ai suoi piedi, una grotta tenebrosa si apriva sul fianco della montagna. Il principe smontò da cavallo, spostò la pietra che chiudeva l'ingresso ed entrò correndo nella caverna. Ecco, in mezzo alla grotta, come aveva detto il vento, una bara di cristallo ondeggiava dolcemente e nell'interno dormiva il suo lunghissimo sonno la principessa. Perché cristallo crudele la tieni prigioniera? Chi l'ha rinchiusa lì dentro? Ridammela, ridammela! E in un impeto di dolore, elisseo spezzò la sua spada sulla bara. Con un gaio tintinnio, il cristallo andò in frantumi e nella bara spezzata la fanciulla tornò in vita. Si guardò attorno con occhi pieni di stupore. Poi scorgendo elisseo davanti a sé, gli sorrise mormolando «Che lungo sonno ho fatto, elisseo! Ho sognato di essere in un letto di cristallo. La pioggia mi cantava una dolce ninna nanna e il vento mi cullava e mi raccontava le sue storie meravigliose. Ma dove sono? E che mai questa caverna scura? E tu come hai fatto a giungere fin qui?» Ti ho cercato a lungo, principessa. Ho interrogato il sole, la luna e il vento. Ho galoppato per radure deserte e per foreste così fite che non vi giungeva la luce. E infine ti ho trovata. Ora torneremo insieme al castello dove tuo padre ti aspetta e diverrai subito la mia sposa. Poi il principe raggiante prese tra le braccia la principessa e la portò fuori dalla grotta la luce splendente del sole. La fece salire sul suo cavallo e tornò al gran galoppo verso il castello. Lungo la strada fecero una sosta davanti alla casetta del bosco e invitarono alle nozze i sette cavalieri che avevano ospitato e protetto la sua fidanzata. Quando i due principi giunsero nei prezzi del castello la malvagia zarina era affacciata a una finestra. Ella li scorse da lontano e nel vedere la principessa, viva, felice e più bella di prima, provò un tale accesso di rabbia e di paura che corse a rifugiarsi nella foresta e nessuno la rivide mai più. Lo zar abbracciò teneramente la figlia e benedisse i due giovani felice di averli ancora accanto a sé. Il mattino dopo si celebrarono le nozze e si fece un grande banchetto. Vi furono più di mille invitati. Si beve birra e idromele a ruscelli e i sette cavalieri fecero il brindisi ai due sposi augurando loro molti anni di felicità mentre i grandi girasoli volgevano il capo ridendo verso il sole d'estate e le spighe s'agitavano tremule al vento. Anche questa bella fiaba è terminata. Vi ricordo che per vedere la lista di tutte le fiabe pubblicate potete cliccare sulla sezione video del mio canale. Invece su playlist troverete le favole suddivise per continente e autore. Iscrivetevi tutti a questo canale e condividetelo con i vostri amici. Un grazie speciale proprio a coloro che mi aiuteranno a pubblicizzarlo e che voleranno con me sulle ali della fantasia in questo mondo fatato e meraviglioso.